Il lavoro è luogo di crescita e realizzazione personale e non può costituire un rischio per la propria incolumità. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio per la 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Eppure nei cantieri come nei campi, nelle aziende come nei magazzini si continua a subire infortuni e a morire. Anche in Umbria che non a caso è inserita insieme a Val d'Aosta, Trentino, Emilia Romagna, Campania e Sicilia nella fascia di maggior rischio nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering che al 31 agosto segnalava 13 infortuni mortali in regione, 3 in provincia di Terni e 10 in provincia di Perugia. Numeri che nel frattempo sono saliti a 15 con gli ultimi due episodi quello dell'operaio pugliese schiacciato da un bancale in un cantiere a Spoleto a fine settembre e l'autista Campano che ha perso la vita ieri nell'incidente di Collestrada. Ma sono statistiche in chiaro scuro quelle che interessano l'Umbria. Secondo l'INAIL infatti nei primi sette mesi dell'anno le vittime del lavoro sono diminuite del 31% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a fronte di una media nazionale che ha registrato un più 3,2%. Dato particolarmente positivo nella provincia di Terni dove i casi mortali sono calati del 66%. La tendenza però resta molto negativa con gli infortuni mortali che nel 2023 sono stati 25 contro i 21 del 2018. Crescono più del dato italiano poi gli infortuni più 4,7% nei primi sette mesi dell'anno e le malattie professionali più 69,7%.